La domanda di Angelica e Mauro. Buongiorno sorelle, buongiorno fratello Giuseppe, che il Signore vi benedica. Veniamo a voi, io, Angelica e Mauro, oggi per farvi una domanda. Chiedo a fratello Giuseppe che è sempre molto esaustivo con le risposte. Io e Mauro conviviamo da un anno e cinque mesi ormai, ma stiamo insieme dal 2013. Desideriamo sposarci, ma non amiamo lo sfarzo, non abbiamo tanti soldi e non crediamo siano nemmeno importanti tanti soldi per una cerimonia alla quale solo il Padre dà benedizione e le ricchezze non sono materiali. Dunque vengo a voi con la domanda. Io non credo ai preti, né alla Chiesa. Io credo in Cristo e alla dottrina del Cristo. Praticamente seguiamo il tuo esempio, fratello Giuseppe. Come i discepoli dicevano, noi dobbiamo essere da esempio. Quindi, da chi potremmo farci sposare e soprattutto in che modo? Perché su internet ho letto che c'è molta burocrazia anche su questo argomento. Ti ringrazio in anticipo per la risposta che non attenderà ad arrivare. Un abbraccio a tutti voi, che Dio vi benedica sempre, sempre, sempre. Grazie, grazie. Grazie, signore, Angelica e Mauro. Bellissimo nome. Mauro, hai una compagna angelica. Grazie, signore. Allora, innanzitutto questa è una domanda che vorrei rispondere un po' a tutti, che riguarda tanti, quindi non tratterò solo la vostra domanda, ma un pochettino allargata, quindi non è, magari non c'entra molto con voi certe cose, ma interessano agli altri. Sullo stesso soggetto, va bene? Sì, perché spesso riceviamo questa domanda. Come facciamo a sposarci? Perché le chiese non ci crediamo, non ci accettano, non siamo d'accordo. Spesso riceviamo questo commento, sì. Sì, le chiese può essere nel giusto o nello sbagliato, dipende cosa dice la parola di Dio, no? Guarda, la cosa giusta davanti a Dio, noi da parte nostra non abbiamo nessun problema a celebrare un matrimonio, l'abbiamo già fatto. Comunque la cosa giusta davanti a Dio è di sposarsi nella propria chiesa, perché è una responsabilità importante. Voi mi dite che le chiese, state avendo un problema con le chiese, però se uno ha una chiesa vera, che frequenta, dovrebbe sposarsi lì. E parla tutti, ripeto, va bene? Perché il matrimonio è una responsabilità importante da parte del vostro pastore, cioè di benedire la vostra unione, pregare per voi, insomma, di controllare un po' se qui ci sono le basi del matrimonio, insomma, va bene? Quindi è una responsabilità. Anche seguire la coppia dopo il matrimonio, essere accanto a loro nelle difficoltà? Sì, non è un'usegetta, non è che vai, tabacchino, compri un foglio di carta bollata e arrivederci, tornerò quando fa dieci anni. Sì, sì. Sottomettersi a Dio, se c'è una chiesa vera, devi vedere il Signore nella chiesa, se no il matrimonio non conta. Per quanto riguarda noi, ci riempie sempre di gioia quando degli amati fratelli che appartengono alla nostra missione desiderano di annunciare davanti ai fratelli di tutta la chiesa e tutta la comunità di voler sposarsi. E' molto ispirante poter benedire la loro unione davanti a Dio, davanti ai fratelli, gloria a Dio. Amen? Sì, però anche tu, come hai spiegato prima, tu sempre controlli, ma i due che si sposano hanno avuto relazioni prima? Ci sono bambini che sono rimasti senza genitori? Qual è la situazione prima? Divorzio? C'è un'ex moglie, un ex marito che vuole rimettersi insieme con dei bambini, cioè due che vogliono sposarsi, però magari uno di questi ha una moglie che lo sta cercando con tre figli e noi non possiamo sposare questa coppia. E vedere se tu stai abbandonando dei figli, allora non puoi sposarti. Casi l'adulterio? Eh no, è logico, è l'adulterio. Quindi non è, cioè il matrimonio, cioè il pastore deve ponderare la situazione, non è che certo viviamo all'era dell'audicea, le chiese sono molte, sono fuori binario, noi sposiamo tutti. Niente affatto, il matrimonio è davanti a Dio, deve essere fatto secondo i comandamenti della Bibbia. Se no è inutile sposarsi, non è solo. Comunque da parte nostra non c'è problema, va bene, quando i fratelli nostri della nostra chiesa vogliono sposarsi con grande amore, però il problema potrebbe sorgere a volte, va bene, può sorgere da parte di altri, terze persone, altri che possono. Come altri, in che senso? Sì, quando si dice, c'è qualcuno che ha qualcosa contro questo matrimonio, parli adesso, taccia per sempre, si dice, no? Noi non lo diciamo, però a volte si usa questo. Voglio dire che se per esempio dei fratelli vogliono sposarsi, ripeto, parlo in generale, ok? Sì, sì, sì. Se i fratelli che vogliono sposarsi frequentassero anche un'altra chiesa, per esempio, anche, quindi piedi in due staffe, no? Perché c'è anche quello. Sì. Fratelli che sono i nostri fratelli, però non sono i nostri fratelli. Sì, ci sono molti così. Appartengono a nostra fratellanza, però non appartengono. Anche di là, anche di qua, insomma, devi decidere. Puoi appartenere a due chiese, va bene. Puoi frequentare mille chiese e le vai a evangelizzare, le vai a predicare, quello che ti pare. Però appartenere, si appartiene a Gesù e la chiesa rappresenta questo, unione con Cristo. Allora, se i fratelli, diciamo, frequentano un'altra chiesa, quel pastore, quel responsabile potrebbe lamentarsi e accusare me, noi, la chiesa dello spirito, che stiamo, in virgolette, cercando di rubargli le sue pecorelle. O addirittura i soldi della cerimonia. Non sappiamo mai come... Quali soldi? Che non chiediamo soldi per benedire un altro cerimonia. No, un'altra chiesa ti fa pagare. I loro soldi. Sì, non ti dicono così, è logico, no? Però una chiesa che paghi... Va bene, io ho sentito due che volevano sposarsi, due fratelli cattolici volevano sposarsi e volevano sposarsi in una certa chiesetta cattolica che piaceva loro nella città. Vanno dal prete e gli dice, senta, al loro parroco, gli dice, noi vogliamo sposarci in quella chiesa perché l'atmosfera è più celestiale, eccetera, eccetera. E allora il pastore, non so se ha parlato al vescovo, eccetera, e gli ha detto a loro, così gli ha detto, da qui a quella chiesa, nel mezzo, geograficamente, ci sono cinque chiese e quella chiesa là è la sesta in linea geografica. Quindi se volete sposarvi in quella chiesa là, potete farlo, ma dovete pagare la cerimonia a tutte e cinque le chiese. Ma come? E perché? Perché matrimonio, io voglio pagare il matrimonio, queste chiese perderebbero l'introito. Ai, ai, ai. Incredibile. E qui c'è la chiesa, ma così, si paga per il battesimo, per il matrimonio, per il funerale, tanto che adesso c'è gente che fa lo sciopero della morte, non muore più perché costa troppo il funerale. Chiusa la battuta. Ma come si ragiona così? È così, questa è storia vera, mi hanno sentito, mi hanno raccontato a me. Ora che tutti i preti sono così, non lo so se sicuramente abbiamo dei fratelli preti che ci seguono, non credo che sono così. Però, diciamo, il matrimonio non si paga. Cioè tu ti presenta la tua comunità, va bene, e tu ti celebrano. Perché oggi il matrimonio è una cosa abbastanza anticristo. Cioè ci vuole la festa al ristorante, non hai soldi, devi prendere in prestito 20.000 euro dalla banca, perché devi preparare un pranzo che la gente deve mangiare come maiali per un pomeriggio, tre antipasti, tre paste, tre tipi di pasta diversa, tre tipi di carne diversa, tre tipi di vini diversi. Ma siamo impazziti. Ma me li avete rovinati quella povera copietta. Quello di andare a prestarsi 20.000 euro e avviene, perché dobbiamo mangiare come maiali. E poi lamentarsi che nell'altro matrimonio che siamo stati c'era un antipasto migliore. Il vino era meglio, le posate erano di argento, i bicchieri erano di cristallo e il prezzo era di d'oro. Io ho detto sempre, sono pratiche pagane, anticristo, stanno adorando il dio dello stomaco. Fate come i romani in mezzo a quei banchetti, andate a vomitare e tornate. Così vi abbuffate, fate una doppa maialata, non semplice. Il vero matrimonio, il vero pasto è in una casetta, una casa con gli amici che ci sono quando hai bisogno, non gli amici che vengono solo quando c'è da mangiare bene e da lamentarsi. Mangiare bene e da lamentarsi. Va bene? Io ho detto sempre, matrimonio, mi piacciono quelli biblici. La comunità si riunisce, il pastore benedice il matrimonio, non li sposa perché nessuno può sposare, vabbè nessuno, ma lo sposalizzo avviene nella unione intima. Due si sposano per conto loro. La Chiesa solo benedice l'unione che ci sarà, in serato o così, o che c'è stata magari dieci anni fa con cinque figlie nel mezzo. Il matrimonio non è il pezzo di carta che vendono sale a tabacchi, carta bollata, sono sposati e vivono infelici e scontenti. Il vero matrimonio è davanti a Dio in amore. Quindi Angelica e Mauro sono già sposati? Eh, certo sono già sposati. Convivono da un anno e mezzo? Certo, certo, certo. Questa non è una dottrina per sposare tutti, no, è una dottrina, questo è il contrario. La dottrina è questa che se tu convivi con una donna, va bene? Dice sì, però non sono sposato. Come non sei sposato? Tu c'hai gli stessi doveri che avessi cinquanta carte bollate verso quella donna o marito, verso quei figli. Tu c'hai gli stessi doveri, capito? Come non sei sposato? Come aveva detto una di tutte le sere, non sei sposato, non sei sposato, non sei disgraziato adultero. E tu non tagliare questo pezzo. No, non lo lascio, sono d'accordo. Ok. Sono d'accordo. Va bene? Se vivete insieme, è chiaro, siete sposati. Ma come vai a dormire con questa donna che è lì, che ti fa il letto, ti prepara da mangiare, ti fa il bucato? Ah, però io non sei, mia moglie. Scusa, eh. E magari gli fai, ci fai anche gli scherzi dietro le sue spalle. Magari, attenzione, eh. Quindi questa è la mia, la mia, è le scritture, e parla di responsabilità. Da Medeva, davanti, si sono sposati davanti a un prete cattolico o protestante? Niente, davanti a Dio. Nella Bibbia non c'è neanche una cerimonia matrimoniale. E loro li fidanzavano. Li fidanzavano. Infatti Dio dice nel Vecchio Testamento, io ti ho fidanzata a me. Mi pare che nel libro di, cos'era, di Osea. Io ti ho fidanzata a me. Il matrimonio ci sarà, Apocalisse 19, verso 7. Lì c'è il matrimonio. Il matrimonio di Dio con la sposa non c'è ancora. Siamo ancora in periodi di fidanzamento. E fidanzate mie, dice Gesù, cioè, rigate diritto. Secondo Corinthians 11, verso 2. Una casta vergine in Cristo. E volevo concludere il punto, vorrei concludere, che il matrimonio è più bello è quando, cioè, si portano i regali agli esposi. Non si va a mangiare, bere, consumare, che li avete rovinati finanziariamente e poi gli dai quattro spiccioli di offerta. Tu gli dai un'offerta che deve aiutare le loro spese. Questo deve farsi casa, comprare i mobili, comprare una veste alla moglie, vestirla come una piccola principessa. Tu porti i tre saggi di Oriente, va bene, portarono oro, argento e mirra. Non andarono lì a mangiare, bere e approfittarsi a tagliare la corda. Quando fate una festa anunziale, liberatevi dei falsi amici, liberatevi dei approfittatori. Fate la festa con gli amici che vi hanno aiutato, il vostro vero prossimo. Va bene? Io ho detto, lo ripeto, se fate un matrimonio e volete invitare 100 persone, comprate 50 polli più a buon mercato del mercato e una botte di vino, se bevono vino o se no acqua di fontana, va bene? E gli invitati, benvenuti a portare i polli, benvenuti a preparare le torte, benvenuti a preparare la verdura, così che gli sposi, così che lo sposo invece sta lì a cucinare per voi, affamati, famelici, va a fare la corte alla fidanzata. Va bene? Si riposano un po' i poverini che ne hanno bisogno in questi tempi. L'ho detto mille volte. Quanti sono gli invitati? 50, 25 polli. Va bene, se no i polli sarete voi spennati da invitati che vengono lì mangiare e bere e arrivederci. E come ringraziamento mormorano. Uh, hai visto quell'antipasto, com'era? Uh, hai visto il vino, non c'era prosecco. A posto? Sì, comunque la soluzione è, dicevi, la benedizione di essere data nella propria chiesa. Ognuno deve decidere a quale chiesa appartiene e il proprio pastore deve benedire il matrimonio dopo che conosce la coppia e sa chi sono. Sì, non vorrei che qualche pastore si riempie. Tu, frate Giuseppe, tu mi hai rubato i soldi del matrimonio. Non diranno così, l'oggio, saranno più... Ma c'è una competizione tra le chiese. Saranno più vellutati, è logico, non è che lo dicono così, eh. Lo sbrodola, no. Ma alla fine della storia, tu mi hai rubato le... Io non rubo nessuno, va bene? Io non ho chiesto a nessuno, per favore posso sposarvi? No, le pecorelle chiedono. Io sono pronta a sposare? Io per me sposerei tutti nel mondo, però sono pecore mie. No, e loro non posso farlo. Rimane il desiderio. Quindi è bene che i fratelli che vogliono sposarsi, e non parlo solamente a questa coppia, va bene, non sto parlando solo a Angelica e Mauro, i fratelli che vogliono sposarsi dovrebbero far parte della nostra fratellanza, va bene? Può sembrare un piccolo dettaglio, ma è importante per evitare evidenti problemi con le altre comunità cristiane, pastori. Pastori e chiese diverse magari da noi, pastori che siamo chiamati da Dio ad amare, a rispettare, ad aiutare, a benedire queste chiese magari diverse da noi, però se amano Cristo siamo fratelli, va bene? Va bene, quindi dovete far parte della nostra fratellanza, va bene? Per far parte della nostra fratellanza, come si fa Angela? Tre semplici passi scritturali, come si fa? Sì, c'è una pagina dove è spiegato si deve essere in unità con la parola, cioè con le scritture che leggiamo dalla Bibbia, evangelizzare, essere attivi come cristiani, e poi aiutare la missione a continuare con delle offerte. È logico. Va bene, tutto scritto questo su 1 Corinthians 9, 2 Corinthians 9 spiega che è così. Quindi unità, sostegno, evangelizzazione. Non abbiamo, sono tre passi scritturali, non è che chiediamo di diventare cattolicese, protestantesi, giuseppese, Angela e Dora, eccetera, e Dorese. No, no, no. No, sono scritture che sono... Quindi assicuratevi che fate parte della nostra chiesa, altrimenti sposatevi nella chiesa di vostra scelta. Ma sceglietevene una però che vi manda, che vi insegna evangelizzare, seguire il Signore, fare una chiesa in casa, trattare la moglie come una principessa, il marito trattarlo come l'immagine di Gesù, la moglie l'immagine della chiesa. Quindi un pastore che vi insegni queste cose. Quindi i mariti fuori binario, attenzione, mogli infedeli, attenzione che il matrimonio non è una formalità, qui pezzo di carta, pronto, ciao, arrivederci. No, non vale niente un pezzo di carta così. Se avete avuto rapporti sessuali, e voi sicuramente quanti anni che sono insieme? Un anno e mezzo. No, da un anno e mezzo che convivono, ma sono insieme dal 2013. Perché io non ci ho chiesto, ma suppongo che dal 2013 avete avuto rapporti intimi. Suppongo. Credo. Comunque questi sono affari vostri. Quindi dal momento che avete avuto rapporto intimo, vi siete sposati. Avete capito? Questo non è libertino, tutti sposati. No, questo è per far capire la responsabilità. Va bene? Che non è solo, oh, che bella la gioia di avere una donna e fare quello che voglio. No, caro. Quali devi prenderti cura di quella donna lì? E del marito. Va bene, Angelina? Penso che è anche importante avere un pastore, perché quando sorgono dei problemi in quel matrimonio, che questo pastore, diciamo, ha benedetto, dopo anni possono sorgere dei problemi. E dove andrai? Che succedono sempre. E dove andrai? Per un consiglio, per preghiera? C'è deve essere qualcuno, come dice in ebrei, che i pastori, they watch over your souls. Ebrei 13, 17. They watch over your souls. Che loro curano e pregano sulla tua anima. E per questo è importante avere qualcuno che ti può aiutare, ti può guidare, quando sorgono dei problemi. Guarda, io e Debra abbiamo avuto problemi. Capito? Io ho bisogno di essere pastorato, di essere guidato, di essere consigliato, di essere ammonito. Ma è vero o no che io e Debra abbiamo avuto problemi? Sì. Non siamo mica i perfettini. Abbiamo avuto... Infatti io... I problemi, i disaccordi così, di opinione. Problemi. Non è problemi. Disaccordi. Sì, disaccordi. Sì, sì, d'accordo, discussioni, eccetera. Io sono il pastore della comunità. Chi è che mi pastora a me? La comunità. La comunità, sì. A volte ci sono stati dei disaccordi tra me e Debra. Abbiamo detto, ok, preiamo coi fratelli. Sì. Va bene? Sì, sì. Presentata la situazione, si sono sempre risolti. Sì. A volte non piaceva troppo a lei, a volte non piaceva troppo a me. Pazienza. Ma per mantenere, per tesorare, far tesoro dell'unità della nostra chiesa, lei si è sottomessa alla chiesa, io mi sono sottomesso alla chiesa e siamo felici e contenti e sei figli. Vabbè. D'accordo? Vabbè, sì. Quindi non è che il pastore è il capo della comunità, punto e basta. No, il pastore è sottomesso alla comunità, il pastore è sottomesso alla chiesa. Il pastore non è un papa infallibile, ma ci mancherebbe altro. Il pastore è uno come Pietro, Galate, capitolo 2, che è un altro apostolo, è andato da Pietro, lo ha sgridato, tu ipocrita, un altro apostolo, a Pietro, il famoso virgolette, contro virgolette, primo papa. D'accordo? Quindi pastori di chiesa, fratelli pastori, sottomettete la vostra chiesa nella parola. Eh, ma la chiesa se ne approfitta. No, la chiesa deve venire con la parola, che approfitta... niente, nessuno approfitta di niente, se camminiamo nella parola. Angela. Una domanda su questo, una domanda su questo, da parte di Francesca, che ha scritto cinque minuti fa. Dice, Francesca dalla Francia, cari fratelli, sto ascoltando... Fratelli, mandate pure commenti tranquilli, che qui, tra me e Angela e Dora, cercheremo di rispondere. Cari fratelli, sto ascoltando la diretta, e la domanda fatta dai fratelli, che si vogliono sposare. Mi stavo chiedendo se dei fratelli non appartengono a nessuna chiesa, e si vogliono sposare con una cerimonia su Skype con voi. È fattibile? Oppure se nei tempi della fine, dato che le chiese saranno perseguitate e chiuse, e non ci si potrà sposare negli edifici, o ci sarà il Marco della Bestia, e non ci si potrà sposare neanche in comune, ci si può, per esempio, mettersi in contatto con un pastore online, perché magari nella nostra zona c'è un problema di qualsiasi tipo che impedisce di farlo. Si può mettere in contatto con un pastore online e sposarsi con gli anelli via online? Perché credo che nei tre anni e mezzo, dove ci sarà l'anticristo, sicuramente delle coppie vorranno unirsi in matrimonio. Cosa ne pensate? Vi amo forte, bacioni, Francesca. Dunque, il matrimonio può essere in qualunque modo, può essere on Skype, può essere al telefono, può essere, noi abbiamo visto guarigioni miracolose, al telefono e Skype, persone che ripienono lo Spirito Santo, guarite da mali incurabili per Skype, per telefono, in qualunque modo. La gente guarisce anche semplicemente pregando su una lettera, un pannolino, un tocco in olio. In Perù, quando pregavamo davanti alle chiese, c'era la fila da gente che chiedeva la fila, chiedeva la preghiera, e a molti venivano col fazzolettino, gli mettevano un po' d'olio, perché loro erano guariti, e gli dicevo, anche mio marito è a casa, è ammalato, possiamo guarirlo? E allora, gli mettevo una goccia d'olio, un fazzolettino di carta, lo portavo a casa, con la fede si guarisce, questo è nella Bibbia. Va bene? La guarigione, in qualunque modo, si può avere. Il matrimonio è lo stesso. Capito? Se abbiamo il potere di guarire le persone per Skype, quanto più puoi sposarli. Sì. Va bene, logico. Quindi, lei chiede, ci si può mettere in contatto con un pastore online? Chiede così? Sì. Perché magari nella nostra zona c'è un problema di qualsiasi tipo che impedisce. Di sposarsi, sì. E certamente, certamente, un pastore che però è d'accordo. Va bene? E anche gli anelli, potete scambiare gli anelli online, certamente, perché il punto non è online o non online. E lo Spirito Santo. Certo. Il Spirito Santo è onnipresente. Il punto è il cuore sincero. Voi, il primo matrimonio, la prima unione, prima ancora che nella carne e nello spirito, quando tutti si è innamorati di quella ragazza, quel ragazzo, vi siete innamorati, ancora non vi siete toccati intimamente. Niente. Eppure vi siete già innamorati. Questa è l'unione di cuore, questa è l'unione di spirito. Una ragazza, una donna, un uomo, possono anche non essere bellissimi, però ti innamori del suo spirito, della sua gioia, della sua pace. È una persona incoraggiante, una persona amorevole, una persona che perdona facilmente. Invece, puoi trovare uno è più bello di Hollywood che è meglio perdere che trovarlo. Che quando hai bisogno non c'è mai. La stessa lì che lui lavora fino a tardi invece ha letto con un'altra. Questo è Hollywood. Non guardare, non giudicare il libro della copertina. Sì, e poi Francesca chiede se dei fratelli che non appartengono a nessuna chiesa se vogliono sposarsi possono farlo online. Abbiamo spiegato che se non appartengono a nessuna chiesa meglio trovarsi una chiesa dove si trovano bene, dove vogliono appartenere. Non deve essere un edificio, ma una chiesa di fratelli, la presenza di altri fratelli non solo per il matrimonio ma per il futuro hai bisogno di fratelli intorno a te. Da solo, come cristiani, non facciamo molto, ma con i fratelli insieme, con l'unità, con il consiglio dei fratelli si può portare molto più frutto per Gesù. quindi hai bisogno di fratelli intorno trovarsi una chiesa. Vediamo nella Bibbia situazioni quando ci sono esempi di famiglie che si sono isolate senza pastore e sono finite nell'incesto. Capito? Ci sono esempi anche di quello. Vediamo in Genesi 19 che c'erano uomini di Dio, una famiglia di Dio che alla fine le figlie sono andate a letto col padre che aveva l'incesto. Perché? Perché ed erano una famiglia di Dio eppure sono cascate nell'incesto. Perché? Perché hanno rifiutato, perlomeno Lotta ha rifiutato il pastoramento della sua chiesa che era Abramo. Lui si è diviso dalla sua chiesa e invece doveva sottomettersi ad Abramo ed era sottomesso fin quando era un piccolo nessuno tutto bene. Quando invece Abramo generoso gli ha dato un sacco di soldi ha diviso la sua possessione che Dio ha dato ad Abramo ma non a Lotta. Ecco che Lotta non ha più bisogno di Abramo. Si separa senza pastore e va a finire a Sodoma sposa una sodomita e poi va a vivere in una caverna con le due figlie che poi fanno incesto. Quindi senza un pastore cade nella fossa. Cioè io io non potrei fare senza pastoramento. Noi qui ci pastoriamo a vicenda quando c'è un disaccordo i fratelli accettano che io c'è l'ultima parola perché sono l'anziano ma non dirigo la mia comunità qui o la nostra comunità allargata che è la Chiesa dello Spirito siamo in 50 nazioni. Non la dirigo correggetemi se mi sbaglio sorelle non la dirigo in maniera dittatoriale. No tu ti consigli sempre ma sempre sempre su ogni piccola cosa tu chiami tutti noi qui per pregare insieme per consigliarci presentare le nostre idee chiedere a Gesù e alla fine decidiamo insieme. Siamo davanti a un problema e allora chiamo tutti e fa voglio consigliarmi e prima consigliate tra di voi addirittura e poi anche con me e poi tutti insieme troviamo la volontà di Dio. Tante volte alcuni di noi ti dicono ma puoi decidere tu e tu dici no voglio che ci consigliamo tutti insieme anche un paio di giorni fa c'è stata una situazione dove dovevamo prendere una decisione e noi avevamo detto ma decidi tu Giuseppe se il pastore ha detto no decidiamo insieme preghiamo insieme tutti qui e più veloce fai tu non perdere tempo consigliandoci tutti ti consigli troppo sì perché voi adesso avete fiducia in me però questa fiducia l'avete perché io mi sono sempre consigliata sì a volte mi ho fatto anche decisioni sbagliate però l'abbiamo fatto insieme perlomeno non è solo tutto colpa mia io posso anche prendere la maggior parte che sono l'anziano va bene però consigliandosi condividi anche la colpa però se tu noti quando abbiamo preso decisioni sbagliate e ne abbiamo prese sì qualche cantonata l'abbiamo preso sì va bene credevamo che la volontà di Dio invece era solo il nostro desiderio sì era per la gloria di Dio ma non era era il numero due ma non era la primaria poi abbiamo capito dopo però che è successo quando in unità abbiamo sbagliato il Signore sempre ci ha perdonato e ci ha tirato fuori sì ha benedetto anche in questi casi perché non è stata qualcuno che ha spinto le sue idee dittatorialmente egoisticamente ma è stato tutto in unità in umiltà però sbagliato il Signore ha perdonato e ha aiutato tutti noi a uscire da quel problema quindi nell'unità c'è una potenza magica è vero per questo ci vogliono i fratelli intorno a noi sì sono la salvezza sono la salvezza io vedo infatti coppie di fratelli nella mia esperienza anche passata che si isolavano non volendo sottomettersi in orgoglio a un pastore e allora non trovavano mai la chiesa giusta e si isolavano e questi sono tutti cascati nel fosso nel senso che non hanno portato frutti evangelizzazione anima convertite questi sono fratelli che non sono in grado di andare in una casa di pecore e iniziare una chiesa non hanno l'unzione perché si sono isolati perché non vogliono correzioni e posso darvi anche dei nomi che non lo faccio qui casca l'asino il test la prova la prova del nove la prova e quando c'è una correzione una correzione il pastore ha una correzione una pecorella lì vedi se è la tua pecorella oppure no e lì è stato diciamo ho visto diversi funerali nello spirito diverse divisioni va bene che quando arriva la correzione come Gesù ha dato delle cose dure Giovanni capitolo 6 e i discepoli sono scappati quasi tutti e non erano discepoli quindi a volte ho dato correzioni e forse voi sapete di chi parlo e sono spariti dopo la correzione perché la correzione ti obbliga a abbassare la testa davanti a Gesù fa cadere la corona inginocchiati davanti a Gesù non il pastore è Gesù però non l'ha voluto fare e allora sono rimasti io, te e nessun altro i frutti niente sono religiosi ma non va bene va bene conclusione lei chiede anche pregi l'ultimo pezzo e dice perché credo che nei tre anni e mezzo perché credo che nei tre anni e mezzo dove ci sarà l'anticristo sicuramente delle coppie vorranno unirsi in matrimonio cosa ne pensate beh guarda ma gli estremi estremi rimedi va bene e quindi a volte vi sposate davanti a Dio se siete in una situazione di tribolazione dell'anticristo supponiamo che noi siamo la vostra chiesa va bene siete un fratello singolo la sorella singola vi innamorate e volete sposarvi davanti a me davanti a noi davanti a Gesù nella chiesa però non è possibile perché che ne so persecuzione voi dovete nascondervi in un casolare dove c'è il fieno il contadino per esempio vi va stare però non potete viaggiare perché c'è il coronavirus perché c'è il corona diavolo c'è il corona anticristo col marchio e dovete stare lì tempo quando non si sa e siete innamorati e allora cosa fai ti sposi davanti a Dio va bene questi fratelli cosa hanno fatto questi fratelli due fratelli chi è che li ha messi insieme il loro amore sì va bene quindi l'ultimo che facciamo i santimoniosi tutti i religiosetti no dovete andare dall'arcivescovo ma figurati se ci sono situazioni così cosa vuoi fare l'importante è che prima che arrivi a vicinanza intima fai un calcolo signore sono io disposto a prendere questa donna come moglie e lei deve fare lo stesso che è facile saltare a letto e quello lì può andare nella prostituta paghi tutto bene per un paio di orette così dicono no ma lo zucchero rubato è dolce ma considera che non è solamente la carne matrimonio la carne e la matrimonio e la parte sessuale gioie sessuali sono un po' come il premio che Dio ci dà per prendersi cura della famiglia e alla sera così eccetera ma ricordiamoci che il matrimonio è innanzitutto un campo di missione il matrimonio e la parte sessuale del matrimonio è il 2% ma io mia moglie non so quando ci vediamo ogni tanto veramente è quello di qua io quello di là ci vogliamo bene ma ci vediamo poco va bene va bene quindi fratelli questo è il mio consiglio se non potete supponiamo siete nella mia chiesa però non potete per qualche motivo sposate davanti a Dio e quando finalmente saremo insieme dopo un mese un anno cinque anni quello che sarà che voi avete fatto tutto per bene io potrò solo benedirvi a me no d'accordo posso mettere un PS dicevo prima nel caso di matrimonio prima di sposare due persone io ho sempre il controllo che succede prima cioè c'è qualche c'è qualche moglie c'è qualche ex moglie con due bambini che ti sta cercando qualche ex marito con due figli che ti ha abbandonato allora questi matrimoni non si fanno quindi le persone che sono in condizione così non chiedete neanche cioè se invece è una situazione che è finita è conclusa non c'è speranza di rimettersi insieme non volete allora d'accordo allora d'accordo se non resisti più il matrimonio è veramente sfasciato non c'è più siete separati come dice primo corinzi 7.15 leggero per cortesia in quel caso il fratello o la sorella è libera quando c'è un vai primo corinzi 7.15 però se il non credente si separa si separi pure in tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace capito primo corinzi 7.15 primo corinzi 7.15 ci sono situazioni che e anche se uno avesse sbagliato se uno ha sbagliato con l'ex moglie però l'ex moglie non lo vuole più non possiamo più tornare insieme confessa il peccato e Dio ti perdona e ti puoi risposare come Davide e Bazeba hanno sbagliato però hanno confessato il peccato e si sono rimessi insieme va bene se Dio poteva dire no rimani rimani vedo rimani singolo tu vedo e tu niente invece no nonostante aveva già un'area un mucchio di mogli Dio gli ha permesso di tenersi anche quella perché ormai Uriah era morta non poteva fare niente quindi cerchiamo di non essere farisei dire tu hai sbagliato adesso tu paghi no 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 c'è anche il perdono è diverso quando tu invece abbandoni la moglie quella c'ha due figli è lì che prega che tu ritorni tu trovi una 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 diciannovene di diciottenne più sexy più tutto e vuoi sposartela se la moglie vuol tornare con te tu non puoi sposartela mi seguite? a posto arrivederci ciao gloria a Dio grazie fratelli mandate commenti sorelle scrivete fateci sapere se siete d'accordo d'accordissimo subito d'accordo o disaccordo o per niente alleluia grazie a tutti grazie a tutti